Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha visitato il centro vaccinale anti-covid di Empoli aperto da pochi giorni, un altro tassello fondamentale nella lotta contro la pandemia in attesa che nel territorio dell'Empolese Valdelsa vengono aperti altri due centri vaccinali uno a Certaldo e l'altro a Fucecchio. In questo spazio nella zona industriale di Empoli si possono fare mille vaccinazioni il giorno, quindi una grossa capacità di vaccinazione se voi pensate che sul nostro territorio di Asle di più ne fanno il Mandela Forum che può arrivare anche alle 3.500-4.000 il giorno e il cosiddetto ex-cattedrale lo stabilimento della ex-breda che può arrivare a 1.500 il giorno. La visita di Gianni è arrivata nel giorno in cui l'Italia fa le prove generali per raggiungere le 500.000 vaccinazioni giornaliere, obiettivo indicato dal generale Figliuolo commissario per l'emergenza Covid. Per raggiungere questo obiettivo la Toscana deve contribuire con 30.000 somministrazioni al giorno, cifra già raggiunta nelle scorse settimane.